segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te il pd dice giorgia meloni fanno le riforme da sole e l'altra cosa che circola tanto è stupidità sempre al governo vince o non vince le elezioni e sempre al governo mi dica la verità adesso ovviamente lei sta curando di pigliare un buon risultato di poter rigovernare questo paese però francamente se le cose non andassero esattamente per il verso giusto non sarebbe veramente salutare per il pd guarda io sono tornato il 14 marzo dell'anno scorso il 14 marzo dell'anno scorso io sono tornato perché il partito democratico era in una fase di diciamo di grandissima difficoltà si stava per dividere ho preso questa missione alla quale tenevo tantissimo perché credo fortemente che ci si ha bisogno di una grande forza riformista nel nostro paese come il partito democratico e la prima cosa che ho detto è stata chiaramente questa forse lei si ricorderà usato il parallelo con la protezione civile ci ho detto basta questa storia che il pd è la protezione civile cioè il pd quando siccome è il partito delle istituzioni con la classe dirigente più più responsabile quando le cose vanno male bisogna che ci sia per forza il pd io l'ho detto molto chiaramente e è il motivo per cui ho impostato una campagna elettorale non dai toni tenui ho detto chiaramente sui diritti cosa pensiamo sull'ambiente cosa pensiamo sul lavoro il che vuol dire per essere molto chiari e l'ho ripetuto anche in quel dibattito a cui lei faceva riferimento al corriere della sera con giorgia meloni che chi vince queste elezioni noi o loro governa e gli altri fanno l'opposizione quindi governi unità nazionali non se ne fanno più ma non se ne fanno più anche per intanto non se ne fanno più ma anche per un altro motivo questa è una legge iper maggioritaria quindi vuol dire che domenica sera forse per la prima volta anche nel periodo di berlusconi prodice stato si saprà chi ha vinto e chi ha vinto avrà la maggioranza ma lenta mi scusi la conosco da molti anni facciamo queste ipotesi grande pareggio con questo conte che in qualche modo spariglia e sud e così la chiama mattelè lei dice enrico guardi pareggio il paese in difficoltà le bollette che facciamo il pareggio uno guardi il pareggio non c'è nel senso che questa legge elettorale con i collegi uninominali così come fatta e con la riduzione dei parlamentari che cosa che rende diverso dal 2018 non farà sì che non ci sarà il pareggio ci sarà una maggioranza uno vince e l'altro starà all'opposizione o noi vinciamo e loro staranno all'opposizione il tema di fondo sa qual è è quello di essere chiari nell'avere le priorità e la priorità del paese che vinca la destra o vinca la sinistra è l'impegno che tutti dobbiamo prenderci a far sì che quei 200 e passa miliardi di soldi europei vengano spesi sa cosa c'è lì dentro so che lei è sempre molto attenta alle cose della scuola oggi è una giornata importante c'è stato lo sciopero dei fridays for future io ieri come l'ho incontrati so che sono molto esigenti sulle questioni dell'ambiente ma sulla scuola l'italia c'ha un problema enorme ogni mattina i nostri figli escono da casa escono in una casa che normalmente è una casa con le dotazioni del 2000 hanno gli strumenti tecnologici entrano nel novecento cioè nelle scuole che lei ed io nel novecento facevamo e poi escono da quella esperienza la mattina nel novecento e ritornano nel 2000 nel pnrr sa cosa c'è centomila aule 4.0 cioè tecnologicamente avanzate da mettere in tutte le nostre scuole la priorità per me è tutte quelle cose che ci sono lì dentro facciamole applichiamo per riuscire a governare questo paese secondo me bisogna che io e lei parliamo un po del suo rapporto con conte perché mi pare di capire che sarà abbastanza decisivo conte è stato una campagna elettorale abbastanza inaspettata a fatto cioè sta crescendo in questi sondaggi segreti e invisibili ma io c'ho sondaggi segreti che stiamo crescendo ognuno c'è sondaggi segreti che sta crescendo stiamo vedendo che al sud può fare la differenza alcuni esponenti del suo partito con grande franchezza tipo michele emiliano detto ragazzi basta che non passa la destra votate due votate l'importante che fermiamo la destra per cui diciamo che secondo me questo rapporto con conte poter quello si si potrebbe riaprire dopo le elezioni no guardi adesso si pensa a domenica 25 oggi è il 23 tra l'altro oggi mi faccio dire che è una giornata che tutti dovremmo ricordare perché il giorno dell'assassinio di giancarlo siani un giornalista giornalista napoletano assassinato dalla camorra il 23 settembre del 1985 e faccio un saluto al fratello a paolo è fondamentale assolutamente fondamentale che in queste ore si dicano le cose che consentano agli italiani di votare domenica bene io ho fatto già qui alcune proposte le potrei aggiungere il fatto che i giovani oggi fridays for future che scioperano per me il primo lavoro per i giovani è la cosa fondamentale togliere gli stage gratuiti gli stage finti e dare loro il contratto di primo impiego detassazione decontribuzione in modo tale che un giovane abbia la possibilità a 22 anni di avere un lavoro pagato e non di dover scappare fuori allora aspetti un momento perché